Il benvenuto a Paolo Martini, direttore commerciale di Azimut e anche autore di recente di un libro appena uscito che è Private Banking 3.0. Allora, come è venuta l'idea di scrivere questo libro e a chi è rivolto? Allora, il progetto nasce qualche anno fa, non sono stato velocissimo. L'idea viene ascoltando tanti private banker e tanti promotori finanziari con cui ho avuto l'occasione di parlare in questi anni, in Italia ma anche all'estero, che mi hanno raccontato che mondo sognano e come vorrebbero fare oggi la loro professione in un contesto difficile, complesso e che anche tutti i cambiamenti ci sono stati anche dal punto di vista normativo. Il libro è rivolto a private banker ma non solo, a quale altro tipo di figure professionali della finanza potrebbe essere interessante? Il libro è rivolto a private banker, promotori finanziari e anche manager. Devo dire che mai come oggi il mondo della promozione finanziaria e quello del private banking sono vicinissimi, in molti casi si sovrappongono, basta vedere quanti bravi professionisti stanno passando dal mondo bancario al mondo della promozione finanziaria. È sicuramente un libro operativo, è un manuale molto pratico, che tocca anche alcuni aspetti particolari. Per esempio, parlo del concetto di personal branding, che è un concetto molto importante, nel 2015 in poi, dove secondo me le società devono aiutare i professionisti a fare la loro professione, a svolgere al meglio, a esaltare i loro branding nei confronti dei loro clienti, indipendentemente dalla società per cui operano. Da qui il sottotitolo che dice che il cliente non è più della banca. Chi è interessato al libro dove lo può trovare? Il libro lo può trovare allegato a BluRating questo mese, oppure andando sul sito www.azimuth.it c'è un form che va compilato e poi viene spedito a casa gratuitamente, chiaramente. Bene, grazie Martini per essere stato con noi. Grazie a voi.